Con l'audo della striscia di asfalto chiesta da Pasquale e ottenuta in breve tempo grazie all'intervento del servizio urbanistica. Pasquale Imperato ha vinto la sua prima battaglia. Grazie all'immediato intervento del comune e del servizio all'urbanistica si è provveduto ad asfaltare lo spazio antistante l'uscita dalla sua abitazione nel rione Raiola che in precedenza era poco sicuro a causa del fondo dissestato e di difficile percorrenza dovuta anche alla presenza di ostacoli vari. Ora Pasquale va a testare l'apertura dei paletti di fronte al Poseidon. Successivamente sono stati effettuati anche consistenti miglioramenti in via dei Carpentieri, stretto passaggio che conduce a via Monsignor Michele Sasso proprio di fronte all'hotel Poseidon. Sono stati distanziati i paletti che servono a favorire esclusivamente il passaggio pedonale e a dissuadere il passaggio di mezzi motorizzati ma che prima a causa dell'eccessiva vicinanza tra loro impedivano anche il passaggio della carrozzina su cui si sposta Pasquale. Ed inoltre è stata installata una rampa che facilita l'ingresso e l'uscita sulla strada evitando la complicazione di salire e scendere dal marciapiede. Un importante intervento che sarebbe essenziale normalizzare senza che si renda necessario il continuo appello da parte di coloro che affrontano problemi simili quotidianamente. La nostra prima battaglia ha avuto un esito positivo.